... Giunge a Foggia accolto dalle autorità Mr. Corsi, rappresentanti l'Italia di Dewey. Si sta costruendo il nuovo ospedale e Mr. Corsi inaugura la lapide dedicatoria. Nel nome di Fiorello La Guardia, assertore della solidarietà atlantica, comune e commosso ricordo che unisce gli animi degli italiani e degli americani, Mr. Corsi saluta gli operai che edificano la casa. Roma, all'ospedale del bambino Gesù il Papa ha voluto destinare il dono a lui inviato di moderni strumenti chirurgici. Il Marchese Serafini ringrazia dell'offerta la General Electric Medical Company. Sono presenti Monsignor Montini e il Cardinale Pizzardo. Il Signor Daroda rappresenta col Conte Quintavalle della Marelli le compagnie donatrici. Mr. Dobble e tutti i convenuti osservano gli splendidi apparecchi radiologici, i letti operatori di nuovo modello. Coi pochi soldi raccolti in questo salvadanaio fu costruito 80 anni fa il primo letto dell'ospedale. Ora centinaia di bimbi sorridono dai terrazzi al sole della convalescenza.